Il termine mostra un po' limitativo in verità perché questo è un vero e proprio manifesto della Fondazione Golinelli. Attraverso questa esibizione, questo mettere insieme i fili di un'antica alleanza tra arte e scienza, in verità la Fondazione Golinelli tende a dimostrare che cosa? Che non c'è una divaricazione nell'operare umano tra idea artistica e intuizione scientifica, ma le attività dell'operare umano sono tutte collegate. C'è un bisogno oggi più di ieri di mettere le mani nelle cose, di imparare facendo perché siamo all'inizio di una nuova epoca storica dove la tecnologia o ci sovrasterà o ci aiuterà a costruire un mondo straordinariamente più ricco di quello che abbiamo conosciuto. Il centro della mostra al suo specifico sono queste due mani che sono il calco delle mani del nostro fondatore Marino Golinelli che in parte sono aperte e una coppia invece di mani rimane chiusa. Quelle chiuse sull'interiorità dell'uomo custodiscono un libro che è la prima esplorazione dell'anatomia della mano umana operata dal Dürer. Da lì si diparte un ragionamento, un filologico che non prende semplicemente l'arte come un momento, un frammento della bellezza umana ma lo piega a spiegare che cosa facciamo qui dentro. Da un lato infatti il percorso finisce e confluisce nella mano robotica che sta sviluppando una start-up che sta dentro il nostro incubatore e dall'altra parte il percorso invece sfocia nella ricostruzione, nella rimaterializzazione della battaglia di Anghiari, capolavoro perduto di Leonardo, che hanno rimesso insieme i ragazzi dei nostri laboratori digitali, giocando a fare Leonardo ma imparando e giocando a fare Leonardo hanno imparato anche che cos'è l'idea di un fallimento perché come sapete la battaglia di Anghiari non è visibile da nessuno perché la calce del mudo l'ha riassorbita. Imparare giocando e facendo è di fatto il motto che questa mostra sottolinea e che è tipico della fondazione Golinelli. Grazie a tutti.